Una domanda. Si fanno tutti i fan dei Sergetti. Ma perché Sergio e Greta non si fanno vedere sui social? Ma i ragazzi sono assieme? Vi ricordate? Sono stati avvistati assieme a Torino, proprio la scorsa settimana. Poi la foto insieme a un fan. Infine Sergio è intervenuto in difesa della ragazza. Quando si è parlato di una chiacchierata alla festa dello chef Federico Fusca tra Mirko Bonetti e Greta Rossetti è da allora il silenzio. Nessuna foto assieme. Addirittura c'è chi si chiede. Ma i due ragazzi, Greta e Sergio, stanno ancora assieme? Come vanno le cose tra i due? Sicuramente tanti fan piacerebbe vedere i ragazzi assieme. Basterebbe in fondo solo un pochino. In più, invece, tanti sono preoccupati perché sembra che in realtà anche Deyanira Marzano l'ha detto tra loro non c'è mai stato il ritorno di fiamma e addirittura è passato anche un bel po' di tempo e ancora tutto tace.